Spesso i pirati vengono raffigurati o descritti con una benda sull'occhio. La spiegazione più accreditata di ciò non è perché ad alcuni di essi potesse mancare un occhio, anche se non è da escludere, ma per un motivo più complesso e scientifico, legato alla sicurezza. Siccome gli occhi impiegano anche 25 minuti per abituarsi dalla luce brillante all'oscurità, mantenendo un occhio al buio tramite una benda, quando si entra in un luogo scuro, sollevando la benda, si può osservare molto più velocemente e soprattutto chiaramente l'ambiente circostante, in modo pressoché immediato. L'uso di un occhio chiuso per preservare un certo grado di visione notturna è perfino consigliato ai piloti dell'Agenzia statunitense che regola ogni aspetto dell'aviazione civile. L'uso di un occhio chiuso per preservare un certo grado di visione notturna.